come va e ben tornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità vi registro questo brevissimo video solo per ricordarvi di segnarvi in calendario la scadenza del primo ottobre per riuscire a ricevere i 60 euro del bonus quindi ricordatevi insegnatevelo in calendario come dico sempre quasi tutti abbiamo un calendario in cucina lì appeso insegnatevi la scadenza del primo di ottobre perché è molto importante per poter ricevere il bonus trasporti da 60 euro perché poi non vorrei che succedesse visto che voi mi seguite sul mio canale almeno vi tengo aggiornati non vorrei che poi succedesse come è successo il primo di settembre che nel giro di un'ora sono praticamente finiti tutti i soldi infatti poi c'è stata gente che mi ha detto è ma sai il sito internet è già è bloccato non funziona più niente non si può più chiedere niente allora siccome che questo è uno dei bonus che ho visto che è richiestissimo a differenza del bonus occhiali che invece quello non se non se l'è interessato nessuno ecco per non dire un'altra parola il bonus trasporti invece è richiestissimo quindi segnatevi questa data adesso poi vi spiego come fare intanto perché ve lo ricordo ve lo ricordo perché è un click day quello quindi vuol dire che come dicono tradotto in parole povere in italiano click day vuol dire chi prima arriva meglio alloggia quindi più su siete veloci ad accedere alla piattaforma è più avete possibilità di ricevere 60 euro quindi primo di ottobre a partire dalle ore 8 e siccome che questo governo non è proprio propenso a fare bonus e quant'altro un po poverello come dico io un po poverello questo governo ecco siccome che il primo di settembre sono finiti i soldi cioè si erano finiti i soldi e poi dopo quelli che avanzavano le hanno rimesso in campo ma avanzano perché c'è gente che magari lo attiva e poi non lo richiede e per quello che avanzano soldi ecco quindi quei soldi che avanzavano ritornano in campo il primo di ottobre quindi velocissimi a partire dalle 8 primo di ottobre vi voglio tutti pronti su internet con lo speed attaccati al sito internet per entrare e chiedere i soldi due sono i requisiti il primo è avere lo speed quindi dovete essere veloci anche lì a accedere cliccare subito sul telefono per richiedere l'accesso con lo speed e poi l'altro requisito è quello che bisogna avere un reddito o una certificazione del reddito dell'anno 2022 che non deve essere superiore a 20 mila euro quindi mi raccomando pronti scattanti per richiedere il bonus poi vi lascio qui sotto nella info box anche il collegamento al sito internet così ve lo mettete lì nei preferiti e poi potete accedere subito io vi do un consiglio come sempre non utilizzate il telefonino per fare questa cosa perché sennò veramente non usciamo più fuori cercate di utilizzare o un computer o un tablet un po più grosso che il telefonino cioè veramente piccolino se io vi vedo già lì col ditino a clicca qui metti la spunta limiti la spunta la ea non riuscire a fare niente quindi utilizzate qualcosa che abbia uno schermo un po più grosso un po più gestibile che se dovete muovere con il dito almeno se dovete cliccare qualcosa ci riuscite non col telefonino che era cosa microscopica che tra un po ci vanno a lente di ingrandimento e almeno così riuscite a fare qualcosa se non avete la possibilità di utilizzare un computer o un tablet insomma fatevi aiutare da qualcuno che magari ce l'ha fatelo imprestare insomma in qualche modo fate utilizzate qualcosa che abbia uno schermo un po più grosso rispetto a un telefono comunque voi poi ve lo ricorderò ancora il giorno prima magari con un video brevissimo e così non ci perdiamo anche questi soldi perché secondo me poi dopo questo giro qua io credo che non ce ne saranno più e quindi non credo ci saranno altri 60 euro così anche perché adesso stanno già parlando di mettere quegli altri 80 euro bella benzina quindi questi qua andranno poi in cavalleria è una volta persi questi chi non lo attiva che non lo prende tornano indietro lo stato e poi se le gestiscono loro è quindi ricordatevi ste cose sempre bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao